Massimo Abitonci, Presidente qui a Bergamo, come sta andando? Direi molto bene perché è quasi l'una e abbiamo più del 40% di votanti, quindi vuol dire che entro la sera sicuramente arriveremo all'80%. Un'ottima affluenza, un'ottima partecipazione, un clima molto caldo e ospitale, quindi sono veramente contento di essere venuto a fare il Presidente in questa prestigiosa sede della Lega. Tra l'altro, la prima volta che la Lega va a primarie, che effetto le fa? La prima volta, però vedo che l'esperienza è positiva perché i militanti vengono effettivamente a fare una votazione di un segretario federale. Forse potrebbe essere anche un segnale per il futuro, probabilmente il nostro movimento ha bisogno di fare consultazioni primarie di questo tipo che hanno, come abbiamo visto oggi nella giornata, un'ottima partecipazione da parte di tutti i militanti. Cosa dovrà fare il nuovo segretario federale? Il nuovo segretario federale deve essere un segretario a tempo pieno, quindi che deve seguire il movimento a tempo pieno, deve essere presente nelle piazze, nelle sezioni, questa è una cosa importantissima. Io penso che il tema territoriale sia un tema molto importante, non dobbiamo farci portare via i temi da altre associazioni, in altri movimenti, io penso al Veneto, al tema per esempio dell'autonomia, anzi molto più importante, dell'indipendenza e dell'autodeterminazione del Veneto, questo è un tema nostro, è un tema leghista, non possiamo pensare che venga gestito da altri movimenti che non hanno niente a che vedere con il nostro. Dobbiamo pensare di portare avanti quelli che sono sempre stati i temi storici, bene il federalismo, bene gli altri temi anche nazionali, però il tema dell'autonomia e dell'autodeterminazione dei popoli penso che sia quello fondamentale di cui non possiamo assolutamente far senza. In una lega di lotta anche a Roma continuerete come state già facendo? Noi a Roma continuiamo a fare opposizione, a farla in maniera anche concreta, certo che non è facile perché siamo una 30-16 deputati e 16 senatori, ovviamente gli spazi che abbiamo sono limitati, però cerchiamo di farci sentire e di portare avanti quelli che sono i temi locali. Certo che, ripeto, non è facile quando hai di fianco movimenti come 5 Stelle che alla fine sono molto protetti anche da parte dei media, molto coccolati e hanno una grandissima visibilità.